ciao ragazzi con questo video voglio solamente dirvi l'ultima novità che è successa come vedete sono nel sito dei webshow awards 2014 nella sezione revelation e come vedete ci sono grandi nomi come ciccio gamer 89 omiatol ma qui in basso c'è anche bistard ci sono anch'io ci siete anche voi quindi sono veramente stra contento di questa cosa qui se volete potete venire direttamente qua su questa pagina ho già messo il link nella mia pagina ufficiale di facebook quindi vi invito a fare un salto lì condividete magari schiacciando questo pulsante ragazzi lasciatemi un commento che ne sono veramente contentissimo comunque qui siamo in pratica in una specie di limbo perché non siamo ancora ufficialmente dentro la classifica dove le persone possono votare siamo in questo limbo diciamo pronti per essere votati penso non ne ho la più pallida idea di quanto duri questo periodo diciamo di transizione da questa cosa qui alla classifica ufficiale comunque sono stra contento già per il fatto di essere qui già di essere candidato qua dentro ragazzi quindi veramente sono stra felice questo qui è un video veramente breve solamente per aggiornarvi sull'ultima novità che è successa quindi io il video lo finisco qua vi aspetto domani penso con un altro nuovissimo video quindi qua da bistard è tutto e noi ci vediamo al prossimo video iscriviti al nostro canale iscriviti al nostro canale